Musica Andrea Riossini, siamo a Milano, San Babila, per l'apertura di un nuovo store di Vodafone. Raccontaci un po' come è nata questo progetto e quali sono le caratteristiche di questo posto. Sì, questo è un negozio molto speciale, è un negozio unico nel suo genere. Oggi inauguriamo e festeggiamo il nuovo Vodafone Store di San Babila, che sarà caratterizzato da due cose. Da una grande innovazione, perché proponiamo qui tutte le innovazioni che la nostra azienda lancia sul mercato, e poi anche di tecnologia all'interno del negozio, perché c'è tanta multimedialità, ci sono contenuti, video, ci sono tanti strumenti nuovi per i nostri addetti vendita e per i nostri clienti. E poi un nuovo concetto di servizio, con tanto supporto in più e assistenza per il cliente, che vuole scoprire il nuovo mondo dello smartphone. Buongiorno Giulio Gallera, consigliere comunale di Milano, il punto di vista delle istituzioni in merito a delle iniziative come questa, ovvero l'apertura di un importante negozio nel centro di Milano da parte di Vodafone? È un segnale molto positivo, che siamo qua a sottolineare con grande entusiasmo. La città, così come il paese, vive un momento di grande crisi. Avere un segnale così forte da parte di un'azienda così importante come Vodafone, che apre in centro a Milano, da posti di lavoro, è un segnale che deve farci ringraziare molto Vodafone di aver voluto puntare ancora una volta su Milano. Sappiamo che da qui a qualche mese addirittura concentrerà il suo headquarter nella nostra città, quindi ancora di più posti di lavoro, ancora più centralità per Milano. E questo ci inorgoglisce come città, ma è bello dire che ci sono ancora imprese che hanno voglia di credere nel futuro, nello sviluppo e hanno voglia di farlo nella nostra città. Senti, questo è un negozio innovativo, immagino che diventerà un po' un modello anche per tutti gli altri store di Vodafone in Italia. Sì, questo è l'inizio di un grande progetto di rinnovamento che abbiamo già presentato agli imprenditori che lavorano con noi sul canale franchising ed è un po' un laboratorio, nel senso che iniziamo a mostrare qui un nuovo modo di interpretare il negozio, di servire i clienti al negozio. Però molto presto contiamo di iniziare ad estendere questi stessi servizi innovativi anche a tutti gli altri punti vendita per avere una rete di distribuzione di vendita e di assistenza al cliente sempre più forte e sempre più presente. Grazie mille e buon lavoro. Ciao.